buonasera buonasera a tutti ciao buonasera buonasera abbiamo cambiato prospettiva oggi buonasera ciao gloria ciao 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 gaccia ben arrivati buonasera a tutti ciao leontina ciao marianna ciao federica giulia rossella rossella due rosselle ciao antonella buonasera ciao gabriele è arrivato rita ciao irene ciao lady vampira ciao sembri uno di star wars ciao ti sei lavata le mani ti allontani ora sì ciao sergio ciao sì ovviamente aveva già lavato le mani ciao a tutti ciao stefania irene emiliana buonasera ciao come te l'hai tolta la mascherina si l'hai presa davanti vabbè ma non hai visto nessuno no ciao buonasera seriale ciao bannatore seriale sì bannatore seriale vuoi questo il mio piciao vabbè aspetta aspetta no vabbè ciao rita ti saluto ciao anna ma lunedì è saltata la ritetta sulle tecniche di disegno sì vi ho mandato un altro video però ciao voglio tornare libero dice sergio e vabbè sergio non siamo mai stati liberi entriamo in un altro discorso filosofico ciao irene sono contenta che tu sia molto creativa mi pulisco un attimo come come la tradizione io sempre dopo perché me ne accorgono ti salutano gabri intonella ti saluta grazie ciao ciao simo sì ragazzi adesso dovete avere brava bella domanda silvia insomma dovete avere un pochettino più pazienza per la prossima settimana io penso che dirette saranno sporadiche perché saremo un po impegnati ciao carmela dire insieme di fare per favore c'è una specie di ritardo il mio problema ciao beatrice voi aggiornate ma un problema questo alla linea e vabbè ma io devo lavorarci ma un problema alla linea ce l'ho pure io no a oltre ad avere un problema di linea al momento anche un problema alla linea ma bene io sono qua dietro va bene no anna non ho avuto emicrania va bene dai basta abbiamo pensieri abbiamo pensieri per il momento che devi sempre parlare troppo qua qua lo scorbutico dice perché guardatelo 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 non guardatelo più sto bene così così come così è come sempre dipende dalle inquadrature oggi sono più vicina certe volte sono più vicina certe volte sono più lontana ciao manuele ma sono sempre così non cambio cambia il rossetto ciao ignazio ciao ma non avete notato niente non avete notato niente non avete notato niente che è girato tutto qui ciao ciao domenica ciao anto sì l'avete notato l'inquadratura ciao concita ciao romina ciao antonella giusto antonella abbiamo cambiato l'inquadratura ciao veronica ciao lucia cambiate inquadratura ovvio ma non abbiamo cambiato l'inquadratura abbiamo spostato il piano da lavoro di arte per te che prima era lì tra le due librerie davanti alla finestra e la cosa mi impediva di lavorare ciao la cosa mi impediva di lavorare di mi impediva di lavorare di giorno perché arrivava il sole diretto quindi dovevo abbassare assolutamente le le serranda la serranda per lavorare vero secondo anno sono ancora alla base posso comunque seguire il blu è sempre un gran bel colore è vero sì ma tanto oggi per chi non è iscritto al corso di disegno vorrei dire che oggi qui non si disegna oggi qui si correggono si parla dei compiti dei ragazzi che partecipano al secondo anno che correggerò che ho corretto e quindi ne parleremo grazie simona no il letto è dietro di me quindi il letto l'ho coperto a questo punto guardate il letto è così non l'avete mai visto allora perché avete eliminato il mio commento nel quale rispondevo a una signora era solo per aiutare emanuele chi elimina non sono io io l'ho eliminato io e manuele ma non era per te era perché la signora aveva infastidito no no non è per questo e perché ha eliminato il commento la signora aveva chiesto ma dove posso trovare video sulla fluid painting sulla resi ah hai cliccato qualche video di qualche altro canale lui ha detto che su youtube ci sono molti molti video va ecco ma andare in un ristorante e dire che in un altro si mangia meglio quindi basta io abbanno chi voglio ma non ti abbannato ha eliminato il commento perché siccome a noi non ci aiuta nessuno ciao adriana quindi perché dobbiamo aiutare gli altri e questo è il suo pensiero no la signora altri canali questo intendeva ma loro non lo sanno non intendevo quello lo so lo so manuele lascia perdere non ti preoccupare io manco lo sapevo vedi tu lui fa lui fa lascia fare il video quella bella libreria piena piena ah la libreria c'è il video su come l'abbiamo creata piena piena è il bannatore seriale si lui banna ah lui intendeva i nostri video sul canale non ti preoccupare ma comunque non vi preoccupate anche quando lo dico siccome Gabriele leggi i commenti e non è sempre di buon umore quando leggi i commenti poi ieri poi ieri mamma mia quindi e già poi c'hanno stati dei commenti che lo hanno infastito quindi quando lui è così alla minima lui banna Tito è di là con Enzo in cameretta si sta riposando anche lui in quarantena e quindi non è che banna elimina quei commenti che lui reputa fastidiosi e neanche me lo dice grazie Loredana grazie io quando mi metto più vicina mi dite che sono comunque voi dovete volere bene a ombretta non a me giusto giusto ma loro sono buoni vogliono bene a tutti ciao Manu tu no come no ma noi lo conosciamo bravi quindi non vi offendete se dovesse dovesse essere messi in quarantena mediatica in sospensione di minuti che è dove non vi offendete è brutto la cosa brutta è quando si comincia a batti beccare con me quello è più è definitiva capita raramente avete perso in partenza capita raramente ma quella è una questione più definitiva di soli allora che ore sono le sei e due minuti ti chiamano ciao nervosetto no non è nervosetto puolino allora vogliamo bene anche a te anche se a volte fai lo scontroso difendi la tua metà ed è dolcissima cosa ciao Gabriele vi vedo grazie Patrizia Tarcisio ciao ombretta che bel nome che hai Tarcisio Stefania aspetta che non ti ho letta vorrei chiederti se hai qualche consiglio per chi ha delle matite anonime piuttosto secche per miscelarle guarda giusto oggi ho girato un video con delle matite low cost puoi vedere in quel modo però le mie erano un po' grasse le tue sono un po' secche nel tuo caso il problema non è tanto la matita quanto il supporto su matite secche sempre carta semiruvida o ruvida perché liscia prende meno bene cominciamo ragazzi ciao ombretta buonasera ciao concetta sì ieri ho visto che Gabriele ha risposto stizzita a qualcuno che chiedeva di alcuni video chiedendoti perché non rispondi ecco quella è la signora che comunque poi ho risposto ragazzi non rispondo perché siete assai non è che non rispondo io rispondo io passo le ore al pc è che non sarete mai tutti soddisfatti che cosa è usato con il pennello niente il pennello era il pennello per sfondo per fondere la farfalla a pastello ma non c'era nulla sul pennello non non riuscirò mai più a rispondere a tutti quindi quando posso rispondo sapete chi diceva la risposta immediata chi è qualcuno di voi può testimoniarlo chi è fortunato e mi becca io sto rispondo alla lista di mail perché poi per par condicio non parto dalle ultime mail ma parto dove capita cioè vado random e comincio rispondo a 10 di seguito poi mi sposto rispondo ad altri 10 di seguito sì silvia sei stata fortunata però non sarà sempre così e non vorrei che vi offendeste perché siete veramente veramente tanti voi sappiate van dik mi piace moltissimo domenico è uno dei miei pittori preferiti ve ne parlerò un giorno in maniera più dettagliata bene cominciamo con quello che devo dire ai ragazzi del secondo anno poi se volete se abbiamo cose di cucchiacchierare come sempre ci spostiamo sul canale ombretta per le chiacchiere diversificate ok sono dalla sicilia di preciso di agrigento se mai state in sicilia tarciso dovremmo venire qualche volta tarciso in sicilia è uno di quei viaggi che ho in mente di fare ciao marianna tarciso siamo vicini di casa io sono a catania tesoro e allora sai che qualcuno ti ha chiamato nicoletta nicoletta faresti il tour del tuo mobiletto belle arti ho fatto il tour della scrivania il mobiletto ma gratis no il mobiletto belle arti non esiste esistono le credenze belle arti i mobiletti belle arti e le varie cose belle arti poi tirate l'acqua ed esce allora qui si tira l'acqua ed esce acrilico sì sì tarciso sono di catania e quindi infatti gli altri erano tutti straniti ma che sta dicendo ombretta come deve fare un viaggio in sicilia sono sicilianissima allora quindi non si sente dall'accento tarciso mi stai dicendo che ho un accento neutro dai sono contenta io mi sento sempre con quelle inflessioni ce le hai ce le hai catania ragazzi stai a palagonia la conosco palagonia vorrei una testimonianza domenico puoi dire a mio marito che venendo su per palagonia si incontra la tour eiffel per favore che lui non ci crede e dice che la strada l'ha fatta tante volte e la tour eiffel non l'ha mai vista non c'è un piccolo coso della tour eiffel venendo a palagonia antonella non ti ci mette neanche come si sente sei mai stata a palermo ci ho abitato quattro anni è palermo ignazio domande un pochettino ho scritto costo è proprio una cosa l'aveva scritto gabriele che non è a gratis lo correggi il titolo che ho scritto costo di disegno allora costo di disegno l'hai scritto tu eh se passi da sigonella si vede vedi che si vede la tour eiffel vero? si grazie grazie è un po' che non riesco a collegarmi finalmente mi si chiama maria celeste ciao si è vero è un paesaggio impressionista ma per fare il play doh posso fare anche con schiume da barba e colorante? no si chiama play doh non lo so dici il potò? non lo so non ho mai provato fammi provare poi ti rispondo allora ragazzi è il corso di disegno innanzitutto bravi perché era tosta assai per voi fare quelle manine era veramente difficile io pensavo che avreste consegnato tipo delle cose embrionali invece ve la siete cavata alla grandissima devo dire complimenti per chi non fa parte del corso di disegno e vuole vedere i disegni di questi ragazzi qua li può trovare sulla pagina facebook arte per te pennello bianco su fondo rosso mi raccomando perché ci sono tante imitazioni ma arte per te è solo pennello bianco su fondo rosso sono felice lucia grazie a te e allora questi ragazzuoli sono stati molto 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 bravi devo dire che l'unico problema che ho riscontrato c'è stato qualche abbandono intenzionale finale nel senso che proprio l'intenzione se n'è andata alla fine ho visto qualcuno stremato sulle ultime cose le ultime particolareggiature della mano posta a destra che poi sarebbe vabbè la mano posta a destra ma lì ho capito che era stanchezza cioè non avete più badato magari all'oscuro inserito tra indice e pollice delle piccole cose adesso poi vi rispondo tutte alla fine le domande tutte alla fine adesso parlo quindi fermatevi un attimo dal domandare e poi tutte alla fine ma quello l'ho imputato proprio un po' alla stanchezza un po' ok ho fatto ok basta ok quindi va bene però quello che ho visto in alcuni disegni che mi ha un pochettino detto da queste ragazze le lo devo dire nelle mani mancavano in alcuni i neri gli scuri allora anche in un incarnato in qualunque cosa c'è l'ombra data dai bruni quindi nelle mani l'ombra specialmente tra le dita specialmente dove l'ombra saliva maggiormente tra le dita doveva esserci e doveva essere molto ben sfumata e molto accentuata perché questo avrebbe un pochettino fatto scendere di tono l'arancione che avete usato per dare l'incarnato che tra l'altro siete stati bravissimi ma avrebbe donato quell'atmosfera tutt'uno col disegno perché poi tutto intorno era molto oscuro altra cosa la prospettiva del mignolo che era un po' disgraziata effettivamente quella prospettiva del mignolo perché sembra la signora che abbia l'artrite reumatoide invece no è semplicemente messa così quindi dovevate fare questa parte ma poi cambiare la prospettiva e fare rientrare cos'è che dava il senso della prospettiva paradossalmente l'unghia quindi voi dovevate guardare queste due parti l'inizio e la fine la falange e la falangina dopodiché tracciare i segmenti 1, 2 e 3 e su questi segmenti costruire il dito il dito si costruisce prima facendo la parte frontale semplicemente e poi aggiungendo come un parallelepipedo le parti laterali quindi costruitelo con i geometrismi e dopodiché arrotondate e vi verrà perfetto perché molti invece hanno fatto la curva come se quest'osso andasse in fuori e poi rientrasse così e questa cosa non è bella a vedersi fa un po' impressione proprio a immaginarla quindi guardate sempre l'orientamento della faccia dell'unghia ok? dopodiché cos'altro dirvi che ho riscontrato le ombre le ombre un pochettino alcuni messe a casaccio quindi che non hanno seguito la fotocopia per alcuni le unghie che non seguivano l'andamento della mano è come se le unghie si staccassero fossero apposte sopra basta avete fatto un lavoro egregio invece con il libro complimenti ho visto dei libri pronti per essere sfogliati veramente non lo immaginavo ho detto da ragazzi ho preteso un po' troppo questa volta però vedo che voi siete stati super 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 bravi proprio il nostro prof ci sta parlando di questo nel video lezione almeno tu fai la dimostrazione quindi me ne farò va bene allora quindi ragazzi nulla da dire ad alcuni proprio sono voluta essere antipatica ho corretto l'andamento delle pieghe delle nocchie perché ho visto che la signora avendo della pelle un pochettino si avrete un compito molto relax e molto bello e in tinta col mio maglione avendo le nocchie con la pelle oramai avvizzita gli si formava una sorta di giro di pelle attorno alla nocchia solo che il giro di pelle comunque da una parte dovevate cassarlo perché sennò veniva una girellina sopra il dito che in chiaroscuro era difficile da rendere invece dovete da un certo punto da una parte aprirlo lasciare comunque le linee orizzontali per far capire che erano le pieghe delle nocchie bene detto ciò io non ho null'altro da correggervi ho visto tanti bei disegni in cui ciao Dana in cui ho potuto dire solamente bravo e questo mi riempie di gioia perché un secondo anno un disegno così in cui devo apporre come commento il semplice bravissimo per me è un un plus incredibile per il resto io non ho riscontrato altri problemi ma può essere che voi li abbiate riscontrati quindi fatevi sotto e fate le domande era difficile ma poi mi sono impegnata fino a che ho potuto brava Luisa e si è visto scusa ombretta sono del primo anno e ho bisogno di aiuto prima di mettere il colore delle uova devo mettere la lacca no perché la grafite mi sporca il colore e come mai perché l'hai saturata molto e non è che con la lacca la grafite si fissa la grafite si fissa con dei fissativi per grafite no non la mettere usa il dito per mettere il colore e rendi pulvirolenta la mina della matita la temperi solo la mina non il legno e la passi con il cotonfiocco con il dito ciao Italia qualche altra domanda io o con un fazzoletto certo quando dico dito intendo sempre coperto dal fazzoletto sono quattro volte che rifaccio il tessuto compito primo anno non riesco a rendere la tridimensionalità mi dai qualche dritta please il tessuto c'è nella ciotolina sotto le uova il tessuto un attimino vado a vederlo perché non ce l'ho io ho un album fabriano ruvido ma è troppo difficile disegnarci che posso usare hai l'album tecnico quello là con f4 scritto in bluett perché perché leggera la carta usa un'accademia una carta accademia sempre della fabriano è buona sia sopra che sotto cosa le piume di pavone troppo complicate non so da dove iniziare scusa se mi trometto nel secondo anno stella va bene lo capisco un attimo sandra ora te lo dico le piume si sono molto complicate ma voi siete grandi nel corso siete là se non fate adesso esperienze complicate quando le fate tu fai un fondo scuro metti poi i colori quindi netta tra i colori con la matita bene appuntita nera puoi andare appuntinato o a strisce e poi l'allarghi col puntinato ma prova prova non ti fermare la parte più difficile lì è rendere il chiaro e lo sfocato per il resto non è difficile è di tempo è da perderci tempo ma non è difficile le uova ah certo mi hai detto aspetta allora continuo ad aspettare un attimo allora accendo il computer e vi dico no ma preferisco averlo qua e vi dico delle uova un attimino che guardo sul mio pc stella poi se non ci riesci non devi concluderlo il disegno a me interessa che proviate l'esperienza puoi anche farne un pezzettino ci sono le matite che si possono cancellare senza che rimanga ombreggiato il foglio no c'è la gomma che più di tutte riesce a cancellare che è la gomma elettrica ma un pochino se hai calcato troppo il foglio rimane comunque o pressato o ombreggiato poi ho fatto a grafite perché ho avuto paura di provare con i colori in vista del terzo anno mi preoccupa non ti preoccupare adesso ce l'hai ah ecco qui stella cos'è che non riesci a no devo pubblicare il disegno cos'è che non riesci a a fare il tessuto sopra e sotto la prospettiva benissimo me l'avevi detto allora innanzitutto lascia perdere la grana del lino a me quella non interessa vai semplicemente di ombreggiature capisci da dove arriva la luce la luce arriva da sinistra nel primo anno Irene si entra a settembre riaprirà il corso io lo dirò il corso di arte per te ha un costo di 100 euro solo al primo anno dopodiché gli anni a seguire sono gratuiti e si entra così e si entra per ordine di arrivo quindi capire dice 100 euro è una ciambella no solo 100 euro e si entra per ordine di arrivo per il resto basta poi stai con me per 4 anni e anche di più se vuoi 4 anni sono i 4 anni di corso allora il tessuto quindi lascia perdere la grana la grana se vuoi poi potrei farla solamente alla fine quindi comincia dalle ombre come prima cosa è piano piano quindi sporca e qui dovete usare tutti i grigi che conoscete io vi consiglio di iniziare dalla parte superiore che è più scura e vi darà il senso del degradare ok quindi iniziate da qui col nero poi piano piano degradate e portate sempre più in luce sempre più in luce e una volta arrivato qui proprio andate a compilare le parti più scure lasciando non compilate le parti chiare e vedrete che il disegno verrà fuori da solo poi per fare il tessuto a canovaccio basterà semplicemente basterà semplicemente no è difficilissimo però andare a strisce continue puntinate ma non lo fare perché non ci basta un secolo per farlo quindi fai solamente le ombreggiature a me interessa che siano poggiati su qualcosa sulla stoffa spero di esserti stata un po' utile dimmi tu ma comunque guarda che colori ritornando invece a chi era a 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 dei colori che vanno calcati vedi perché il colore è qua il colore un po' di rosa qua tra le uova i colori sono colori che vanno sfumati accompagnati quindi non pressare se non pressi la graffite a meno che non è proprio vulvirulenta non si stacca dal foglio ok non ti preoccupare qui non c'è problema di maiuscolo laura ciao proverò con la parte inferiore perché quella superiore l'ho saturata e scaricala la parte superiore è saturata se ti da problemi prendi la gomma e la scarichi tanto poi ci devi riandare di sopra quindi anche l'ombreggiatura che lascia la ricolori non è un problema quando dovete completare una parte non è un problema se scaricate un po' scaricando con la gomma togliete anche un po' di patina cerosa che vi consente di rimettere nuovo colore quindi non è un problema forza con i pollici in su forza qualche altro qualche altra domanda ombretta per le piume del pavone con le acquerellabili come si fa a sfocare no aspetta Dania tu non devi acquerellare tutto il disegno con le piume perché sennò ti viene un paciugo devi dare qualche puntino sui chiari per far uscire quel brillante capito ti devi aiutare specialmente col bianco conoscelo in mente specialmente col bianco ti devi aiutare e devi far venire fuori in maniera nitida netta quello che un po' farebbe una penna in gel quelle parti che invece sono no non mi interessa quelle parti che invece sono così brillanti per lo sfocato invece ti puoi aiutare col bianco utilizzando il bianco come un tono che dia quella velatura appunto sfocata e che uniformi e unisca il soggetto allo sfondo nel caso la piuma è quello che c'è dietro ma per usare il bianco per sfocare per dare un tono avvolto da una nuvola in pratica devi però saturare il colore perché sennò non riuscirai mai a arrivare a quel tono avevo un po' di timore ad usare il colore soprattutto con tutti quei particolari nelle mani e nel libro ma alla fine è andata benone veronica direi verone brava niente dania paciucco e genovese buono lo conosco grazie siamo a 37 pollici in su vergogna vergogna c'è quasi 100 persone dai allora qualche altra domanda forza forza non siete timidi e non abbiate paura sono qua per voi domandate allora pubblico il compito nuovo io ho tentato con le piume che si guardano un po' da lontano non è troppo male è perfetto un attimino vi devo ok vediamo vi devo spostare il nuovo corso a settembre sarà pittura o disegno o tutto insieme sempre disegno ok ci siamo spiegano spiegano perché disegno perché è più pratico per loro disegno sì perché è l'unico che posso fare così con voi qui online pittura dovrei farvi video mandarveli è un macello ciao Patrizia un attimino ragazzi perché mi devo riscaricare la foto e ricondividerla e quindi comunque una di voi non mi ricordo chi del secondo anno mi ha chiesto il compito in anticipo chi è stata Simona Simona Perrone ah io ho sempre lo scotch che mi rovina il foglio devo assolutamente avevo risolto tutte le parole con il phon tu lo scotch non te lo passi tra le dita prima e poi quando lo togli aspetta ti faccio proprio vedere prendo lo scotch scusate un attimo eh Simona ok non l'hai non l'hai fatto vedere brava brava ma io non ho capito Simona tu hai fatto le fotocopie per chi come hai fatto a raggiungerle lo passi come tramite fotocopia come non siamo in quarantena scotch di carta foglio di carta foglio di carta appiccichiamo lo scotch di carta così guardate io non l'ho passato neanche tra le dita ok lo sto pressando moltissimo quando voi togliete lo scotch di carta dal vostro lavoro quello che non dovete ah quello che non dovete tirare non dovete fare così ok quello che dovete fare è questo quindi fate camminare le dita sullo scotch quindi non dall'alto se no effetto celetta strappo garantito ma piano piano no proprio senza alzare lo scotch dal foglio così ok l'unico modo per non strappare in modo che vi accorgi lo scotch per disegnare è scotch carta normale questo è scotch carta normale quando togliete lo scotch dal foglio per contornare i fogli dico non dovete strapparlo via ma dovete proprio scivolarlo in modo che anche se ci fosse rimasta una piccola fibra di carta lo vedreste subito innanzitutto potreste ritornare indietro col gesto col gesto e ritornare in faramento a due lire certo così faccio e prima di mettere lo spasso sulle mani poi prima di toglierlo passo con il phon come mi hanno suggerito ma si rovina sempre con il phon sciogli la colla quindi a maggior ragione si appiccica invece tu la colla la devi raffreddare perché probabilmente lo togli subito dopo aver finito perché può darsi che è ancora caldo della tua pressione qual è la carta migliore per usare le matite colorate non c'è una carta migliore dipende a seconda del disegno che devi fare le carte sono le carte da disegno vanno dall'album classico ai blocchi da disegno blocchi da schizzo dipende la grana del la texture che vuoi avere riguardo le fotocopie un collega di mio marito si è prestato di stamparci i compiti di scuola per la bambina ed ha approfittato ah ok io pensavo che li passassi le tue colleghe di costo ho letto velocemente ho capito simona perfetto va bene un pochettino andando non avevo capito questo passaggio ho capito che tu li avresti passati e poi io prima te l'ho dato e poi ho detto ma come fa a dargliele allora pixi perché li prendo su pixi bay manolo c'è il video su arte per te che differenza c'è tra i pastelli e le matite colorate bene laura grazie c'è un bel video su arte per te le matite colorate sono le matite quelle col fusto in legno i pastelli sono le paste di colore quindi quelli che di solito vengono hai ragione Laura quelli che di solito vengono venduti in piccoli blocchetti e sono quelli più polverosi possono essere a cera possono essere ad olio possono essere tipo gessetti possono essere pastelli naturali ce ne sono di vario tipo poi comunemente le matite colorate vengono chiamate pastelli ma non è proprio una giusta dicitura un attimo che ve lo sto trovando perché ce l'ho scaricato sul cellulare e se lo prendo dal cellulare devo chiudere la chat quindi o scelgo voi o scelgo il compito non l'ho salvato sul cellulare l'ho salvato ok grazie ve lo subito a vederlo dopo i pastelli che marca mi consigli per i pastelli guarda la marca che uso io non c'è più non la fanno più perché usavo il ferrario penso che la ferrario sia stata inglobata alla My Mary quindi a questo punto My Mary se ci sono allora 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 Rembrandt sono anche molto buoni eccolo è lui dovrebbe essere lui salvo immagine facilissimo è bellissimo è molto distensivo allora io ve lo pubblico però non ricordo se effettivamente era proprio questo dici allora che lo pubblichi a fare Maison du Pastel non te lo consiglio sì io li ho però costano troppo per uno studio un attimo devo vedere sul desktop dove mi ha messo il colore dove mi ha messo il disegno quale valide consiglieresti per soluzione più economica rispetto a Prismacolor alla Faber Castle ciao Ra Barb allora come colori io consiglio gli stabili o acquerellabili ecco amoruccio ciao ciao potrei facendo la diretta sì non fare lo sciocchino stai digitando sì saluta e vai ciao ciao chiudi la porta arrivo eh ragazzi vi sto facendo l'immagine non non sto perdendo tempo grazie grazie poi glielo dico è andato di nuovo di là non trovo paint ma perché quando serve non trovo mai paint eccolo cosa ha scritto quella persona 220 di grammatura Dania sul foglio di grammatura 220 acquerellando con le matite mi si è sciupato il foglio lo rifaccio di nuovo o si può colorare su carta d'acquerelli con le matite a cera sì perché non puoi colorare con le matite c'era su carta d'acquerelli certo che puoi colorare sul foglio no stira il foglio non c'è bisogno che lo rifai di nuovo stira il foglio sì lo so ma ce l'ho sul cellulare quindi faccio prima a fare questa cosa che ha che apprende le mie cose non ti preoccupare non ti preoccupare ho finito ho finito è che vi devo spostare perché voi siete davanti al pc e io non vedo quello che sto facendo quindi ok uno due no perché loro sono sul computer devono stare sul computer allora selezioni ritaglia selezioni magica ok salva arriva 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 smettila a gratis smettila perché secondo anno vado e sto per un attimo che vi sposto mi leggi cosa sta scrivendo ambra ciao ombrette io sono nuova ma spesso seguo i tuoi video e cerco di migliorarmi grazie per quello che fai complimenti grazie ambra ciao un bacio a te la tua bellissima sardegna mi si è impallato il computer ci puoi credere eh sì che stupidon arrivo ragazzi ai 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 allora perché il disegno perché il disegno a pennarelli è considerato una tecnica poco nobile ma chi l'ha detto Emanuele il disegno a pennarelli è una tecnica molto moderna perché i pennarelli ci sono da assai poco però moltissimi fumettisti moltissimi diciamo che è una tecnica che non dà la possibilità di creare la tridimensionalità molto profonda è una tecnica molto fumettistica bidimensionale però ormai con la tecnologia che avanza e i pennarelli che si impreziosiscono vedi Copic vedi i pennarelli quelli con la punta da una parte e il pennellino dall'altra si possono acquerellare e cominciare a fare delle cose meravigliose anche con i pennarelli sono molto difficili però no no ci sono la My Mary ha comprato tutto e continua comunque a mandare con la vecchia dicitura ha comprato proprio l'azienda quindi è sua quali pennarelli quali pennarelli a punta fine davvero waterproof consiglieresti sono più penne che non pennarelli e sono questi e sono questi allora gli stabilo si e sono permanent questi qua questi sono pazzeschi hanno questa punta così e hanno diversificate punte però questa è una delle delle migliori tu hai i tombo ma per fare l'ombra in un disegno si deve fare in matita anche con un pennarello o anche con un pennarello per fare l'ombra in un disegno a pennarello la puoi fare anche con un pennarello con i copic vengono benissimo natalina ciao appena il mio computer si riprende vi posto il disegno qua è morto poverino scusate è morto è morto ma che ha ma che ha arte come padrone no no sta caricando ho visto la rotellina che gli gira ho visto mi hanno regalato dei blocchi fabriano per artisti 50% cotone texture molto ruido tipo carta di riso per acquarello sono 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 bellissimi ho anche per le matite acquarellate ciao papino per le matite acquarellate sono più che belli quindi si certo che possono servire ti hanno fatto un gran bel regale vuoi essere usato come medium? no no quello è buono per i sushi Nicola sai perché no? perché non essicca se tu hai un essiccativo puoi usare tutti gli oli che vuoi aggiungi l'essiccativo e tutti gli oli poi dopo un po' di tempo si asciugano se tu invece non hai l'essiccativo ti rimane un tuoso a vita un po' come l'olio per motori un po' non avete visto il video dove c'è come fare quello di olio lo dicevo comunque pensavo potresti fare un disegno per tecnica di disegno in modo da farci vedere il modo giusto Simona sulla carta è facile ho appena finito di fare un disegno veramente piccolo piccolo veramente quante ore di girato? ve lo dico io per farvi vedere la saturazione del colore cioè il mio scopo era fare delle campiture larghe per fare uno sfondo nero e uno sfondo un po' sfocato e poi nel frattempo anche una sfumatura di colori e colori che possano uscire tendenti al bianco per fare un video così piccolo perché poi detta in frasi è molto lungo ma per fare è un video è un disegno sciocchino dieci ore di girato dieci ore quindi non è semplice per me conciliare tutto il mondo mediatico in questo momento solo quello più poi quando hai lavori fuori più Enzo la casa la vita che ci mette anche sempre del suo e si ragazzi i disegni come dico a voi ci vuole certo che potessi ma ti ho risposto posso chiedere un consiglio sui pastelli o matite pastello quando provo a fissare uno strato con la lacca mi fa volare via è normale avevo posto ho sfumato sul foglio si è normalissimo anche questo e devi poi rinfrancare devi poi rinfrancare tutto mi piace il mio cavalletto umano quelle non sono mutande appese è una mascherina aspetta c'era un'altra un'altra cosa oso con una domanda sciocca da principiante sto bozzando un paesaggio stile Santorimi che vorrei poi rendere a matite colorate con che matite parto 2H no non è la 2H ma se uno è principiante parte da un paesaggio di Santorini innanzitutto un paesaggio di Santorini potresti farlo ad acquarello e viene bellissimo come matite invece ti consiglio no no veramente ti consiglio le l'H no le 2H no ma tu poi lo devi colorare questo disegno perché se lo devi fare tutto in bianco e nero allora si parti da una cosa molto bassa se invece lo devi colorare con gli azzurri come penso che è successo? ne hai parlato di nuovo? voglio chiudere queste immagini appena la chiudo mi si blocca il cavalletto umano si qua ce l'ho accanto a me sta per caricare il disegno ragazzi sto per caricare il disegno che emozione poi vi metto tutte le specifiche la consegna allora vi dico subito che è da fare su foglio semiruvido bianco ok? sottolineato foglio bianco semiruvido con matite colorate ok? questo non significa che non potete usare per abbozzarlo le matite è ovvio che per farlo per catturare gli spazi ciao Gab cosa? no Simonetta neanche l'hai visto? già no allora no a priori Simonetta è difficile foglio bianco matite colorate arriva perché no le matite colorate tutti i secondi anni amano le matite colorate che avete voi? in realtà ho alle spalle tre anni da interior design ma sono passati secoli voglio sì lo voglio colorare è un paesaggio molto semplice allora se lo puoi colorare per eliminare la traccia sì l'HB è passata sottile sottile e poi rinfranchi con altro leggera 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 sì sì un attimo che sto caricando il disegno qua amica ombretta ho un quadro antico da sistemare la tela che ormai non è più tirata cosa faccio mai da un restauratore perché non è cosa che si può fare a casa una tela più devi fare una foderatura nuova del quadro e quindi a casa è impossibile che tu lo possa fare vai da un restauratore e te lo fai bello allora secondo anno da consegnare in data non lo so lo scrivo dopo entro le undici riproduci il soggetto su foglio bianco con matite colorate foglio bianco semi ruvido mi raccomando se avete fogli ruvidi non quelli a vergature verticali o con i buchi grossi così perché non vi può avvenire un foglio ruvido male che vada usate la carta pacchi che è sempre meglio per intenderci quella giallina che è sempre meglio di niente lo pubblico poi la data siccome non ho presenti gli altri quando devono consegnare ve lo aggiungo ve lo aggiungo dopo ti perdoneranno pubblicato ve lo ricondivido e vi andate a vedere il compito così se avete domande è facile è bello è rilassante secondo anno appena arrivano F4 Fabriano è nera sì Federica è quello è il compito è quello è il compito non vedi le domande è il nero anche il nero soprattutto è il nero il compito è il nero si pareva che il compito fosse il fiore come hai fatto a fare passare ho fatto questa cosa hai fatto una cosa assurda e ora ah ok scusate ragazzi scusate chiudete gli occhi se no qua vomitate tutti su questo passaggio bello lo so che è bello che si fascia la testa prima di cadere bellissimo ciao baby allora come si fa questo disegno allora come saturare in nero ve lo farò vedere in un prossimo disegno e io tra l'altro partivo sulla pagina facebook di arte per te Francesca e io tra l'altro partivo da una carta orrenda per saturare perché è una carta ruvida per invece rendere quel biancastro si usa il bianco ok no no matite colorate si usa il bianco cioè voi passate i toni per arrivare a quel tipo di bluett poi per aggiungere quel bianco si usa il bianco era uno dei complessivi eh sì Manolo il corso è già avviato e si consegna sulla pagina facebook di arte per te e ricomincia a settembre per le iscrizioni nuove a settembre le iscrizioni nuove che significa Simone no allora io l'ho già fatto l'anno scorso per le vacanze assunte come ti è venuto valla a riguardare se ti è venuto bene 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 ti do anche il permesso di ripostare quello se ti è venuto te lo risistemi o lo rifai mi serve questo compito non lo cambio perché mi serve mi serve per per voi del secondo anno ne avete bisogno e così hai un benefit dal fatto che hai fatto i compiti di disegno è un premio però io credo che qualcosa con occhio fresco da sistemare la potrei trovare sicuramente sì morena veramente non scherzo veramente è bellissimo ma voi con le matite colorate il fondo nero compatto sì Simona potete anche movimentarlo ok cattivissima ma come è bellissimo l'ho scelto in tinta col maglioncino e mi dite queste cose cattive allora con la 8b non con la 8b no no la 8b non è nera è grigia allora f4 no o solo quello f4 no o solo quello perché f4 no Stefania perché f4 no perché è troppo ruvido bellissimo compito bellissimo compito ma ho paura questo è bene che la paura vi accompagni sempre per fare bene quella è che la forza sia con te va bene l'ho detto io no f4 cosa ho detto io no l'album f4 no io solo liscio o una cellulosa per acquarelli no per acquarelli no io ho detto le matite della gamma cabino io non ho parlato di album f4 ho parlato di non prendere la carta o di non prendere la carta ruvida dove le pieghe siano troppo accentuate può essere allora parlavo delle matite non parlavo della carta allora movimentato sì un fondo movimentato è un fondo dove alla compattezza si possono aggiungere anche dei toni di colore nel senso se riuscite a vedere che il nero assoluto non riuscite a portarlo avanti potete creare specialmente sugli angoli esterni delle variazioni tonali che accompagnino magari riprendendo il colore del soggetto insomma usate anche un po' la creatività per stratificare ulteriore colore sul colore poi potete andare di nuovo col nero vedrete che prenderà di nuovo la matita in modo da poter stratificare e questa sovrapposizione anche con altri colori vi creerà un sottotono movimentato non omogeneo nero piatto in realtà questo che vedete in foto è un sottofondo movimentato perché se lo fissate bene ci vedrete anche del rosso dentro quindi non lo so ombretta so che è fuori tema ma ti prego visto anche il mio il mio periodo il periodo il periodo per la situazione del lavoro faresti un video dedicato ad esempio su come si possa provare ad insegnare nelle accademie tutto ci vuole la raccomandazione per entrare io te lo faccio ma l'ho fatto credo il video non me lo ricordo però si te lo faccio il video su come insegnare nelle accademie devo passare per assegnare tutte le matite delle mie figlie ho solo le carandasche che sono durissime durissime tutti impazziscono per queste carandasche anche a me non piacciono bellissimo bellissimo sono Laura col cellulare di Andrea ciao povero figlio gli ruba pure il cellulare allora va bene quindi se qui quali matite prisma color no sulle matite vi lascio libere ripeto le matite quelle che preferite non è un problema la matita la matita può andare dalla giotto alla carandasche quella che preferite quando pubblichi il video del disegno che hai fatto credo venerdì ma è molto più babbo di questo non riesco a reperire informazioni su una parte comunque se lo fai sei un tesoro davvero va bene meglio base cerosa o ad olio cerosa secondo me come che rispondi veramente cosa tu perché non andiamo a chi vuole essere milionari va bene se non avete più domande attinenti ce ne andiamo stabilo sì le stabilo vanno benissimo ce ne andiamo per l'arte questo ed altro e poi si è perso il mio tablet giusto come posso iniziare con voi il corso benedetta se ne parla a settembre a settembre riconnettiti con noi e ti diamo tutte tutte le informazioni una ragazzina che si firma o ti chiamate benedetta no lei no perché benedetta è nuovo lei allora ragazzi ci siamo bene noi qui ci salutiamo ciao ciao fashion muci noi qui ci salutiamo la bella torino se volete li passo su ombretta se volete passiamo sul canale ombretta e parliamo un po' del più e del meno visto che in questi giorni non ci siamo visti va bene e allora ciao da qui e ci spostiamo sul mio altro canale cercate ombretta scritto in corsivo accerchiato da un pallino ciao a dopo vi voglio